Continua il viaggio di Cremona 1 nella formazione post-diploma con il corso biennale di Automazione e Innovazione per la Transizione Ecologica erogato da ITS Academy Cremona, che forma esperti in processi di automazione industriale in grado di affrontare le sfide della digitalizzazione dei diversi comparti industriali, in particolare del settore manifatturiero. Un percorso scelto da numerosi giovani che preferiscono un approccio più pratico alla materia, come Rebecca Spoldi, scritta al primo anno, la quale aveva inizialmente intrapreso studi universitari, ma poi ha deciso di cambiare. Ho scelto di frequentare questo ITS perché ho valutato che mi portasse più rapidamente nel mondo del lavoro. Qui affrontiamo tutte le materie in modo molto più pratico, facendo anche laboratori e simulazioni che aiutano molto a capire anche come funzionano le cose realmente al lavoro. Il corso di alta specializzazione, strutturato seguendo gli input delle aziende socie, infatti, prevede stage oltre a lezioni frontali. È possibile trovare ulteriori opportunità, come è accaduta a Francesco Zanaboni, che frequenta il secondo anno e al contempo fa un apprendistato. Faccio l'apprendistato presso un'azienda del mio territorio e al mattino lavoro in azienda e al pomeriggio vengo qui e seguo le lezioni. Questo percorso di apprendistato duale mi consente di fare già esperienza lavorativa mentre sto ancora concludendo gli studi. Io mi occupo al momento di digitalizzazione dei processi attualmente in essere, cioè i processi che attualmente sono fatti in maniera magari non troppo efficiente, li rendo digitali in modo che siano anche più tracciati. Per il futuro il desiderio è lavorare nel settore. Il mio sogno lavorativo è quello di occuparmi delle macchine, dell'automazione, industria 4.0 e quell'ambito lì, che secondo me potrebbe essere valido come futuro. I dati di placement disponibili mostrano che l'80% dei diplomati ITS trova lavoro ad un anno dal diploma, il 92% in un'area coerente al percorso studi. Grazie. Grazie.